Via Drizzagno, ore 3 e 40. La perdita di controllo improvvisa dello scooter all'altezza della rotonda che spezza la strada tra Scorsè e Zero Branco. Ha perso la vita sul colpo Michele Malenotti, 42 anni, figlio di Franco Malenotti, famiglia che aveva rilanciato la Belstaff, noto marchio di abbigliamento con sede a Mogliano. Ancora in fase di accertamento le cause della tragedia, ma secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe un malore all'origine della fuoriuscita di strada. Malenotti stava percorrendo il Drizzagno da Scorsè in direzione Mogliano Veneto, dove viveva. Quando ha perso il controllo dello scooter e mancando così la curva d'entrata della rotonda è finito contro il muretto dell'isola di traffico. Un impatto violento che ha sbalzato l'uomo fino al centro della rotonda. Ancora evidenti i segni dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SUEM 118 che però non hanno potuto che constatare il decesso del 42enne. Michele Malenotti, dopo il 2012, anno in cui la famiglia aveva ceduto la Belstaff, era diventato AD del marchio Matchless, azienda di abbigliamento e e-bike che ha sede tra Milano, Treviso, Londra e Monaco. Un mestiere che lo aveva portato a girare il mondo e incontrare personaggi come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Con loro le foto esibite sui social dove il giorno dopo la notizia della sua morte si susseguono messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, a cui si unisce anche quello del sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Conoscevo il padre, un imprenditore importante, con una ditta anche che ha fatto successo. Io faccio le condoglianze a tutta la famiglia, ho saputo di questa tragedia. Il marchio Belstaff per Mogliano che cos'è? È un marchio che ha fatto lavorare tantissimi moglianesi, poi negli anni ha subito delle evoluzioni e comunque la famiglia Manenotti continuava a lavorare nel settore dell'abbigliamento con l'impiego di tante persone moglianesi.